Era uscito di casa nella giornata di sabato senza farvi ritorno, così alle primissime ore della domenica i familiari in preda allo sconforto hanno sporto denuncia di scomparsa alla polizia. Enesima tragedia della disperazione a Ragusa dove un uomo di 63 anni si è tolto la vita lanciandosi dal ponte San Vito. Un gesto estremo a quanto pare frutto di una crisi depressiva e forse riconducibile alle difficoltà economiche. La ricerca del disperso è cominciata subito dopo la denuncia da parte dei familiari. La prefettura ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinando gli interventi previsti per tali casi ed attivando tutte le unità di ricerca del punto di comando avanzato. Alle attività di ricerca senza sosta hanno partecipato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il servizio provinciale del Dipartimento regionale di protezione civile con i propri volontari, la Polizia Municipale di Ragusa e l'azienda sanitaria provinciale. Nel primo pomeriggio di ieri tale ricerca hanno dato purtroppo un esito tragico. È stato infatti rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo nella vallata sottostante il ponte San Vito. Con l'intervento dei vigili del fuoco si è proceduti al recupero del cadavere che è stato riconosciuto dai familiari. L'ispezione cadaverica effettuata dai medici legali inoltre ha confermato la morte per precipitazione. Altri due tentativi di suicidi si sono verificati appena una settimana fa. Una donna aveva tentato di gettarsi sempre dal ponte San Vito, mentre un ragazzo di 24 anni di comice aveva tentato di farla finita lanciandosi dal ponte Costanzo. In entrambi i casi le tragedie erano state scongiurate dal tempestivo intervento della Polizia.